Come è andata? Tagli il decreto? Direi bene, il decreto per quello che sappiamo, poi dobbiamo esaminarlo attentamente, le nostre aspettative li soddisfa pienamente. Noi la priorità l'avevamo data oltre che la prima casa, la seconda, il Presidente del Consiglio ci ha detto che anche le seconde case, perlomeno nei paesi del cratere, verranno rifatti, quindi per noi è importantissimo perché oltre all'economia è importante che gli oriundi ritornano come hanno sempre fatto. Io so che oggi se non ci fosse stato il 100% per le prime e le seconde case oggi non parlavamo neanche di tempi, perché andavamo via tutti, per cui i tempi sicuramente saranno quelli giusti, ora bisogna stare vicino alla mia gente perché non si devono sentire dei terremotati ma sono degli sfrattati a tempo.